Ciao a tutti ragazzi, io sono Tragex95, oggi siamo qui in questo nuovo video con il mio bicchiere, mio bicchiere, eh sì ragazzi Questo video vi dico solo che non lo credo da nessuno Cioè, lo crederete perché certi l'hanno fatto Però ragazzi, oggi andremo a bere niente di meno che L'acqua frizzante Sì, a ragà me non piace, per quella liscia Per fida ci andiamo a bere due bicchieri, se ce lo facciamo Non è raga facile, come certi di voi diranno Perché raga, a me mi fa veramente schifo Andiamo a versare, guardate No clickbait, eh Mamma mia Raga, non ce la farò mai Assaggiamo, aprivo un goccio però Troppo gasata Questo facevo come speciale Lo speciale c'è gli iscritti, ragazzi Eh, perché l'acqua frizzante Non mi piace Toglietemi una davanti L'acqua naturale È la più buona, raga L'acqua naturale Praticamente sì Andrò a fare Che schifo C'è ancora un'altra acqua Raga, ho le lacrime Mi fa troppo schifo Andrò a bere questo po' 3, 2, 1 Secondo bicchiere Questo è l'ultimo, eh Se ce la faccio C'è l'acqua L'acqua minerale Dà un brutto sapore in bocca Non è per niente buono Meglio quella naturale Lasciate like se siete con me Guardate No clickbait Acqua frizzante Potete vederlo Un attimo Eccolo qua, raga Non so se voi riuscirete a leggere Ma sta scritto No, non si vede niente Sta scritto Acqua minerale Piano piano Sennò Oggi vomito Anzi oggi vado Faccio Ecco Bere acqua frizzante Tutto il giorno Ragazzi Tra l'altro ragazzi Vi dirò Una cosa Nel prossimo video Ragazzi Ero molto piccolo Fidatevi Ero piccolo Anche abbastanza E quando sono stato Bullizzato Da Dei ragazzi Di 14-15 anni Ragazzi Vi dico solo questo E uscire tra poco il video Ragazzi Chi non è stato mai bullizzato Nella propria vita Tutti 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 E da là ragazzi Ho imparato a difendermi Quindi Non tutto il male Viene per nuocere Per nuocere Perché praticamente Avevo un vecchio canale YouTube Michael Tomaselli Andatelo a seguire Ovviamente Anche se non faccio più video Appena ho aperto Col canale Ragazzi Mi hanno Vi spiegherò Nel prossimo video Vi spiegherò Nel prossimo video Anche se non mi è vergogno Ragazzi Perché adesso Cioè A dire che no Che non so minare È difficile Ok ragazzi Bevo tutto il sorso Tutto Vai Ce volete fare ora? Mi avete il clickbait Io non faccio mai video clickbait Io faccio sempre video veri Raga Dovete saperlo È in tempo reale Tra l'altro Non faccio mai un taglio Ragazzi Non faccio mai niente Perché I fan miei Perché quelli degli altri Fanno tagli Super tagli Per non far vedere Che sono fake Io video fake Non ne faccio Ragazzi Non per vantarmi Ma non mi piace Fare video fake Cioè Mi sto un po' Sui testicoli Allora ragazzi Scusate Vi dovevo spiegare un po' Il video che uscirà Uno spoiler piccolissimo E raga Noi ci vediamo Al prossimo video E Alla prossima Ciao